Senza l'acqua l'agricoltura muore, senza l'acqua nessuno fa investimenti. Le associazioni degli agricoltori per la prima volta insieme in una conferenza stampa congiunta denunciano la grave situazione dei consorsi di bonifica del Basso Molise. Una crisi che viene definita terribile da Giuseppe Spinelli, delegato confederale della Coldiretti Molise, da Luigi Santoianni, presidente regionale della CIA e da Maria Concetta Raimondo, presidente di Confagricoltura. Complessivamente i consorsi di Termoli e Larino hanno 20 milioni di euro di debiti Da tempo le associazioni chiedono al presidente della regione Toma di intervenire, ma ad oggi nulla è accaduto. Per questo minacciano di scendere in strada con i trattori. Ci siamo incontrati con Toma diverse volte. Abbiamo scritto al presidente Toma diverse lettere. Abbiamo avuto dal presidente Toma diverse assicurazioni, anche al comitato che si è costituito nel Basso Molise. Purtroppo tutto è rimasto lettera morta. Come se avessimo parlato al vento. E adesso siamo qui a spiegare alla popolazione del Molise quello che sta succedendo, perché questa è l'ultima chance che diamo a questa regione. Dopodiché non ci rimane altro che andare con i trattori sotto la regione. È la nostra ultima carta che possiamo giocare. Le associazioni, oltre a denunciare la situazione, propongono anche possibili soluzioni. Innanzitutto i costi imputati da Molise Acqua e i consorsi dovrebbero essere assorbiti dalla regione. Poi il debito residuo potrebbe essere estinto con un mutuo favorito dalla stessa regione. Il problema è rilevante ed è un problema che mette a rischio un settore importante per la nostra regione. Noi rischiamo veramente di non riuscire più a produrre. Quindi c'è bisogno dell'attenzione giusta e se siamo qui in maniera congiunta è perché veramente abbiamo bisogno, richiediamo l'attenzione di cui praticamente abbiamo davvero bisogno. Consideriamo che parliamo di un ente che è un consorzio obbligatorio che obbliga proprietari di terreni che ricadono nel territorio dove il consorzio dovrebbe erogare servizi. In realtà spesso questi servizi non vengono erogati oppure, nel migliore delle situazioni, male erogati.